Ciao a tutti i mici micini, io sono Valentina e oggi faremo il Back to School. Vi ricordo anche di iscrivervi sul mio canale di Instagram, si chiama trattinovalentinoolieri. Ok, iniziamo col video. Allora, come potete vedere io ho comprato un ogieno nuovissimo, che a me piace un sacco. Ce lo volevo proprio così uguale. Ho disteso l'ogieno così posso prendere più facilmente le cose. Allora, questo è un diamo ma non è davvero quello giusto, ma è un altro perché non è arrivato a quello delle medie. Ovviamente c'è un gattino che è già l'aliena. Vabbè, comunque poi c'è un astuccio nuovissimo con un sacco di cose dentro. Che bellissimo. Allora, ci sono un sacco di cose, la colla, la gomma per cancellare le penne cancellabili, una pelle incancellabile, un'altra, ancora una, credo basta. Poi una gomma per cancellare una penna e poi le matite. Poi ovviamente un evidenziatore per sottolineare. Ve lo consiglio comunque il più chiave possibile, tipo il giallo. Perché se no non si vede tipo niente, se lo comprate azzurro. Poi una bellissima calcolatrice cioccolatosa, però so già che non potrò usare. Poi una bellissima penna che mi è stata regalata. La compravo, qui lì. Poi un bloc note, si mostro carino, che ho già cominciato ad usare. Poi delle gommine, ma molto molto carine. Allora, ve le faccio vedere meglio. Un ghiacciolo. Un gelato alla fragola. Un cupcake alla fragola. E ovviamente non potrebbe mancare la ciambella alla fragola. Le metto qua, però non chiuso, così le potete vedere. Poi un compasso per fare meglio i cerchi. E per finire un temperino a forma di bidone di lingua ditta. Ma che schifo. Ok. Ovviamente c'è l'astuccio piccolino, con il cupcake e tutte le ciamberine carinissime. Ok, poi... Ovviamente non può mancare l'autentico stuccio, che non è ancora aperto. Quindi lo apro, così ve lo faccio vedere meglio. Ciao, ciao. Ah, è vero. Vabbè, ve lo faccio vedere ora. Non potrebbero mancare le forbici. E io ovviamente ero abbastanza dimenticata. Ah, sì, ovviamente. Vabbè. Le forbici. Poi i ghelli. Il piccolo temperino. Una gomma. Due penne. E una matita. E poi... No, quant'è bello. I pennarelli. Tutti colorati, belli. Non so quanti siano, mi sembra 18. E poi le matite, ovviamente. Tutte colorate. Tutte colorate. E per finire... Aspetta, no. Per finire un tavolo, un attimo. Ecco, una merendina al brownie. Che in realtà sarebbe una merendina al cioccolato. Che noi l'abbiamo comprata in Francia. Ma adesso, ovviamente, le fanno anche in Italia. Ah, le fanno buonissime. E questo. E il tu, non c'entri nulla qui. Ovviamente non poteva mancare il sacchetto per mettere dentro le scarpe. Giola. Ah, scusatemi. E per finire... Una boraccia per bere. Che è molto carina. Se fate tipo così... Aspetta. Così si apre. E così si chiude. Bellissima. Pure anche del mio colore preferito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi prendete di iscrivervi. E lasciate un bellissimo commento. Ciao! 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 Grazie a tutti.